Siamo al campo base, ora inizia una delle fasi più importanti di una spedizione, l'acclimatamento. Bisogna salire sempre più in alto, abituare il fisico a cuote sempre mattoni. Bene, sacco a pelo, corda e tenda. Il giorno è una parte molto importante, perché bisogna riuscire a capire la monta. È un momento psicologico, se qualcosa è già là, è facile arrivare. Siamo a prendere le fasi, per marcare la ruota per il glaceo. C'è una parte tra le creveri. E anche se ne falle molto profondi, è più difficile da trovare la scuola. Ok, abbiamo fatto un deposito, oggi è il 7, e ora andiamo subito con le snoshoi. Oggi è molto pericoloso, oggi è molto pericoloso. È pericoloso oggi! Ok, questi due ragazzi stavolano subito, ma io decido di subito. No, c'è il doppio della neve rispetto a qua. Se qui ce n'è così, non ce n'è tanta così, poi vengo giù a valanghe dappertutto. Se io ho fatto il deposito, è meglio tornare indietro. Si sale e si scende. Si sale e si torna al campo basso. Ah, è in molto buona condizione. Ora la vita è cambiata immediatamente. Prima era incredibile. Ora è incredibile. Abbiamo deciso di subito ora, perché sembra molto raro il vento di buon weather. Quando è possibile, si lascia del materiale in vuota. Verrà recuperato la volta successiva, per salire ancora di più. Buon lavoro. Siamo trovati un po' tra il Serac e qui siamo qui. Bisogna salire ulteriormente, per allestire un campo e dormire ad una quota ancora maggiore. Ok, questo è il deposito di camp 1. Questa è ok, siamo molto fredda, e mi piace andare subito. Oggi siamo molto satisati, perché la notte vi dormite in un tipo di camp camp. In between, al principio del glaceo, fino al campo 1. Oggi siamo arrivati in un po' di più. Oggi siamo arrivati in un po' di più. Oggi siamo felici. Oggi siamo felici. Oggi siamo fredda, ma non ci sono fredda. Oggi è difficile. Oggi si ricorda? Oggi è fredda. Il prima città in un po' di più. Oggi è sicuramente non mi piace andare fuori dal camp. Potremmo, ma bisogna un buon pomeriggio Ricordi di chi fa il treno oggi? Sì, ovviamente, oggi, Monique, lavoriamo Ok, potremmo venire con noi la prossima Grazie mille Probabilmente dovremmo venire nella parte del nord del Glacier Il vento è venuto dal nord Significa molto buono, ma molto caldo Dopo un giorno di riposo al campo base, bisogna tornare su Simone e Denis hanno intenzione di salire verso il Ganalo Peak Una montagna di 6.000 metri, dalla quale avranno anche una completa visione della parete che intendono salire sul Nanga Parma È così freddo, non si è freddo Ma siamo solo a metà strada I ragazzi dovranno salire sulla vetta del Ganalo Peak Prima di tentare definitivamente l'ascesa al Nanga Parma L'attitudine è abbastanza buona Siamo in una posizione decisamente ottimale per guardare un po' la parete Ciao! Today, thanks to my leading work Our team reached the altitude of 5.400 m I went by my own roads It's incredible how was danger and difficult But my guys work ahead very well Ciao ragazzi! Complimenti! qui need location e ch Salvaggia grat diga quate b φ